Fabio Sacco, direttore APT Val di Sole Ciao a tutti, è l'undicesimo anno del ritiro del Napoli Calcio in Val di Sole Entriamo in dieci giorni davvero ricchi e intensi di appuntamenti, eventi e iniziative Il Napoli torna a trovarci, i tifosi stanno arrivando numerosi e in questa settimana avremo appunto tanti appuntamenti Il mister e i due calciatori incontrano il pubblico, la presentazione della squadra con il DJ7 Ben due partite amichevoli contro la Naune, squadra locale e poi contro il Perugia Quindi già un amichevole di altro profilo Quindi la Val di Sole è qui che aspetta a braccia aperte i tanti amici di Napoli e tifosi del Napoli Che stanno scegliendo in questi giorni di venirci a trovare Il nome e cognome è dentro? Sì Dimmi quello